Maxi operazione della Guardia Costiera di Taranto denominata passo e chiudo che ha visto coinvolti più di 50 militari e che ha consentito l'esecuzione di sette ordinanze di custodia cautelare in carcere e ai domiciliari disposte dalla GIP di Taranto nei confronti di altrettante persone coinvolte a vario titolo e in concorso tra loro in areati che vanno dal furto e la ricettazione al commercio di sostanze alimentari altamente tossiche grazie a un sistema di contraffazione dell'etichettatura. La prolungata intensa attività investigativa dei militari è scaturita da alcune denunce di miti di coltori vittime di ingenti furti di prodotti ittici e ha portato alla luce l'esistenza di un vero e proprio mercato parallelo di prodotti contaminati chimicamente e biologicamente che immessi nel mercato tramite la contraffazione della tracciabilità veniva spacciato come prodotto di alta qualità ma pericolosissimo per la salute pubblica. In particolare i militari hanno accertato l'esistenza di una organizzazione criminale che sistematicamente trafugava i mitili da impianti siti nel primo e secondo seno del Mar Piccolo, li coltivavano abusivamente in impianti illegittimi per poi distribuirli ad acquirenti di fiducia locali che a loro volta li commercializzavano nei banchetti presenti sulle strade tarantine ma anche a grandi centri di spedizione ricavandone ingenti guadagni derivanti dal basso se non inesistente costo di produzione o acquisto in quanto prodotto dell'attività illecita del furto. L'accurato sistema consentiva ai soggetti coinvolti di aggirare così le stringenti normative sanitarie materia che prevedono lunghi e accurati cicli depurativi dei mitili nonché le previste movimentazioni del prodotto per abbattere la contaminazione batterica e i livelli di PCB e di ossine causando così inestimabili danni alla pubblica salute. Nello specifico alcuni dei soggetti si occupavano di organizzare i furti e la vendita dei beni sottratti, le operazioni di trattamento, la sgranatura dei pergolati di mitili al fine di perderne la tracciabilità data dalla colorazione della retina scelta da ogni mitilicoltore nonché di consegna del prodotto confezionato in sacchi del peso di 10 kg ciascuno agli acquirenti di fiducia previa prenotazione telefonica del quantitativo richiesto.